Poi qua spero di arrivare quinto perché almeno prendo meno permessi al lavoro, visto già tutti per me Abbiamo segnato? Abbiamo segnato! Abbiamo segnato! Mio che go! Abbiamo segnato! Abbiamo segnato! C'è la loro! C'è la loro! C'è la loro! C'è la loro! E che babbaro! 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 Santissimo I Dia! l'ugaux dei go! Madonna che quella seconda punizione che stegna in tre anni Te l'ho detto 3.000, ma io qua arrivo in ritardo, qua c'è qualcosa di ritardo Madonna quant'è che non vedevo un gol così? Quanta era che non vedevo un gol così? Quanta era che non vedevo un gol così? Quanta era che non vedevo... Il che babbaro, il che babba... ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi Il che babbaro ce l'abbiamo noi Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi Il che babbaro ce l'abbiamo noi Ricordi... Una presa di mano quella? Tra l'altro lì dopo dovevo anche andare a lavorare Ah no, il presidente ha preso Rebic A parte il fatto che Non l'hanno nemmeno fatto vedere in diretta il gol perché C'è stato il gol, mentre quello segnava c'era il replay, c'era... C'è, non l'hanno nemmeno fatto vedere in diretta il gol in poche parole Guarda che gol... Che gol che si è stampato Che gol che si è stampato questo Che cosa facciamo? Sf... Ederun 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 Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? E' entrato su... Nooo Adesso butta fuori biglia Butta... Ma guarda sto deficiente come è entrato A parte che quello adesso gli da pure rigore Gli da pure rigore ma guarda sto meno matto maledetto meno matto maledetto una partita all'anno fa che fa ancora danni una partita che fa fa pure danni cioè tu vai a pestare uno per terra che ha perso palla vai a pestare uno per terra sul polpaccio sulla gamba che ha perso palla ma quanto sei deficiente ma quanto sei deficiente ma ogni partita c'è adesso qua non è che se ci sei qua non è che il Lecce il a parte che l'entrata così è da espulsione non è da da munizione Biglia andava buttato fuori se la subisco io l'entrata così voglio che l'altro vada fuori è entrato col piede col piede a martello sopra sopra la gamba e l'altro aveva pure perso il pallone pensa che è deficiente pensa che è deficiente pensa che è deficiente che ignoranza che ignoranza ragazzi che ignoranza l'ho parato 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 Sì, 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 Gasperini maledetto, vai a Grugliasco maledetto, vattene a Grugliasco maledetto, vattene a Grugliasco maledetto e stramaledetto. Allora, Sandrina, voi Granata dovete spiegarmi una cosa, a parte che ho detto prima io che Biglia andava espulso, l'ho detto mezz'ora fa, a parte qua. Ma poi dovete spiegarmi una cosa, cioè io sono venuto in maratona, sono venuto allo suite, spero sempre che il toro vinca, nei video ho parlato più volte del toro, il toro di qua, il toro di là, e voi, io dico voi come tifoseria, come tifoseria, voi Granata, me ne dovete sempre, dovete sempre venire, pure al lavoro, dovete sempre, a parte qualcuno, ma la maggior parte, sempre che ci state lì addosso, come se vi, come se vi avessimo fatto chissà che cosa, io non so che cosa abbiamo fatto, non lo so, sempre, il tifoso Granata, io non so, e Berlusconi, e di qua, e di là, sono vent'anni, trent'anni che, benedetti tifosi Granata, mi, non mi lasciano mai in pace. Ma cosa fa, ma che gol abbiamo preso, ma che gol abbiamo preso, ma che gol abbiamo preso, ma che gol è? Di nuovo biglia, ma maledetto, biglia, maledetto, stramaledetto, guarda che palla che ha perso, di nuovo, guarda che palla che ha perso. Zappata contro Calabria, Zappata prende il Calabria, lo puccia nel latte e se lo mangia, poi hanno avuto anche il culo con il rimpallo, c'è stato il rimpallo, però tutto è partito da quel maledetto di biglia, maledetto, stramaledetto. Ma io, ma scusa, ma scusa, ma perché, ma scusa, c'è Krunic, che non è che sia, non è che sia un pallone d'oro, ma tra Krunic almeno, almeno è un atleta. Cioè io dopo, io tra un po', io tra un po', mi devo vestire, la c'ho la roba, mi devo vestire, ho preso due ore di permesso, mi devo vestire, andrò a lavorare. Biglia, ha la stessa faccia di quando io, di quando, sembra che è lui che deve andare a lavorare a fare la notte. Sembra che è lui che deve andare a lavorare a fare la notte. È una cosa schifosa, è una roba schifosa. Biglia, per caratteristiche, è uno di quei giocatori che a me piace, perché è uno che sa trattare il pallone, alla Lazio mi era piaciuto più volte. Ma non puoi giocare con un andamento che è nemmeno la bocciofila. Non puoi giocare con un andamento che non hanno nemmeno la bocciofila, ma ci stiamo rendendo conto. Krunic almeno corre un po', picchia, almeno fa qualcosa. Ma dai, ma... Ha procurato un rigore inutile, gli ha dato un rigore all'attelata inutile. Quello aveva perso palla, è andato l'aglia, gli ha pestato il piede senza motivo, la palla ha persa. Poi ha perso palla, contro il piede, sono ripartiti i gol. Poi hanno avuto anche cura nel rimpallo, poi Zappata gli ha tirato una spallata al Calabria e l'ha mandato in piazzale Axum.